Bene la riapertura dell'autorizzazione integrata ambientale all'ILVA, il ministro Clini, che è un tecnico, si è mosso nella giusta direzione, ossia contemperare le esigenze di salute ambiente a Taranto senza però toccare nemmeno un solo posto di lavoro. E il commento del sindaco di Taranto Ezio Stefano alla mossa del ministro dell'ambiente, che a meno di un anno dal rilascio da parte della commissione IPPC del Dicastero, preseduto allora da Stefania Presti Giacomo, ha riaperto le procedure di autorizzazione integrata ambientale all'ILVA. Vorrei partire da un concetto fondamentale. Il ministro Clini è un tecnico che ben sa giudicare la situazione ambientale, ben sa giudicare le malattie professionali e le conseguenze sulla salute dei cittadini. La nota positiva è questa perfetta sintonia fra ministro, presidente della regione, provincia e comune di Taranto. nella difesa assoluta e chiara dell'ambiente, della salute in fabbrica e nella salute dei cittadini, e nella produttività, cioè nella difesa dei lavoratori, del numero dei lavoratori. Poi a chi avanza la critica, che volendo tirare un bilancio, in meno di un anno l'AIA all'ILVA è stata approvata, rilasciata, bocciata e riaperta, e dunque in questo senso avevano ragione gli ambientalisti, sostenendo che l'AIA era troppo blanda, risponde. In meno di un anno sono cambiate le condizioni? Certo, perché guardi, per esempio una cosa molto interessante che è stata detta ieri, si sta parlando della copertura del parco minerale. Il problema della copertura è perché il parco minerale più grande che ci sia probabilmente in Europa, perché parliamo di 68 ettari. Allora, il problema è, esistono al mondo delle tecnologie che ci permettono di raggiungere questo risultato? E adesso non siamo soltanto, voglio dire, non è soltanto la grande industria che deve occuparsi di questo, ma è il governo italiano che si sta occupando per vedere se al mondo è possibile andare a vedere se ci sono delle metodi in grado di poter garantire questo. Infine sulla decisione di non revocare l'ordinanza antiveleni. Non è una ordinanza capotica, ma è un'ordinanza che chiede di anticipare quei provvedimenti che servono a tutelare l'ambiente, quindi non ci sono motivi per poterla ritirare.